paola donnini e carlo massoni paola donnini gestisce la grande televisione del lazio ecco qua paola donnini che tiene in mano l'ultimo romanzo di carlo massoni il sentiero bianco eccolo qua il sentiero bianco è un librone di quasi 300 pagine è incredibile e carlo massoni carlo massoni è un medico ortopedico traumatologo che opera a roma opera a naboli opera a malta opera a londra opera a new york ed ha la passione per la storia dell'impero bizantino questa vicenda si svolge proprio nell'impero bizantino guardate il sentiero bianco vedete l'altra storia della vela cruce ecco qua carlo massoni la casa editrice ecco qua la casa editrice edizioni efesto ora la casa editrice edizioni efesto sta alla grande mostra del libro a torino ecco qua la situazione ecco qua la situazione paola donnini che gestisce una grande rete televisiva nella regione lazio e carlo massoni medico ortopedico traumatologo che opera in italia all'estero ma ha una passione per la storia medievale in particolare per la storia dell'impero bizantino ecco qua la sua opera un romanzo storico di circa 300 pagine 300 pagine ecco qua cari amici la gioia di andare in libreria comprare questo romanzo storico portarselo a casa e leggerselo in tutta tranquillità ok cari amici per cui a tutti voi tanti cari saluti da serafino massoni